Finita, prima finale delle gare punti, categoria ragazzinacci, 2 milioni di appunti, 5 chile per per il posto, abbiamo già assistito l'uomo della montagna, ma al nostro passaggio vedremo già la prima scelta di tutti, dobbiamo di ritrovare a conquistare. 135, due punti, 108, un punto. E' il momento che comunque è partito. 2 punti, 137 e un punto. A continuare questo momento, la scelta per l'arco, la scelta per l'usco, 137 e due punti, 108 e un punto. A continuare questo momento, la scelta per l'usco, la scelta per l'usco, la scelta per l'usco, la scelta per l'usco, la scelta per l'usco. un giro 47, due punti 137, un punto 147, un giro 157, 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 un giro Grazie a tutti.